Buonasera, bentrovati a tutti, è finito il periodo di ballottaggio che ha visto Francesco Ferrari uscire vincente dallo scontro con Ana Tempestini e in questo confronto c'è stato una persona appartenente a un partito politico, il partito dei Hark, si chiama Fabio Gambone che ha dato un'indicazione di voto dicendo di votare Francesco Ferrari, questa cosa ha fatto molto scalpore e ho deciso comunque sia di intervistare Fabio e Silvia appartenenti appunto ai Hark e capire meglio questa indicazione di voto, chi sono Hark, quindi godetevi l'intervista e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale Youtube, se volete comunque sia vedere anche altri contenuti, le altre interviste, le poesie, le cover e vi saluto e vi lascio all'intervista, ciao, buona visione. Allora, vedo una bella bandiera rossa dietro con falce e martello e c'è scritto Hark, diretto punto scano Hark. Cosa rappresenta questa dicitura Hark e poi nei fatti cos'è il partito di Hark? Hark. Allora, ok, rispondo io. Hark sta per comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo. Noi siamo un partito di comunisti, quindi che lotta per fare la rivoluzione socialista nel nostro paese. Pensiamo che il socialismo sia l'unica prospettiva positiva per uscire dal marasma di questo sistema e oggi lottare per il socialismo sostanzialmente significa per i comunisti promuovere l'organizzazione, la mobilitazione delle masse popolari a partire da quella che è la resistenza che spontaneamente i lavoratori, gli studenti, in generale, insomma, le persone che cercano una risposta mettono in campo. E da qui appunto comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, perché la prospettiva appunto è la rivoluzione socialista per chiaramente il comunismo, che è la cosa di cui tutti hanno bisogno anche se magari non lo sanno, è la prospettiva oggettiva. Chiedo a tutti e due, da dove venite, come vi chiamate, quanto ne avete, insomma, un po' una presentazione così. Da dove venite? Allora, io sono Silvia, sono la segretaria della Federazione Toscana del Partito dei Carc, vengo da Massa, però vivo e opero, insomma, a Firenze. Ho capito. Io Fabio, anche io vivo a Firenze, io mi occupo di lavoro operaio sindacale e sono segretario della sezione di Rifredi, che è un quartiere popolare. Come vedete voi da esterni, esternamente Piombino? Poi la vivete anche nel concreto, perché partecipate alle manifestazioni e da molti anni siete presenti, però secondo voi, perché io non la posso giudicare perché ci vivo, quindi non posso dire, però secondo voi com'è Piombino a livello proprio di lotta, di resistenza, perché noi piombinesi diciamo che siamo un po', a volte veniamo definiti o ci autodefiniamo di zombie. È questa la realtà oppure posso? Sì, sì, vado. Allora, noi abbiamo scritto spesso, anche sul nostro giornale di resistenza, di cose che si muove a Piombino, perché secondo noi l'esperienza di Piombino è una delle più avanzate d'Italia, no? Prendo l'esempio, noi diciamo che la resistenza lupica alla Silvia si sviluppa, si struttura e vincerà grazie alle organizzazioni operaie popolari, che sono popoli che furono i Soviet per la Lussia, no? Erano organismi in cui si ritrovavano operai, contadini, militari, cittadini per mettere mano ai problemi. Al di là, no? Inizialmente soprattutto delle ideologie della politica erano proprio strutture, organismi anche operativi. Qui abbiamo il CSP e il Camping 5, e sono due esperienze da vanguardia nel nostro Paese. Il CSP è nato otto mesi fa, non di più, non è tantissimo, il Comitato di Salute Pubblica agisce e io ho visto più manifestazioni con mille persone in un Paese di 30 mila abitanti, convegni, incalzo ai candidati, anche quello che noi chiamiamo porsi da nuova autorità pubblica, vuol dire dettare i tempi, tenere l'iniziativa della lotta, vuol dire ai candidati se noi facciamo ricorso al TAR, voi sosterrete le spese e lì poni uno spartiacco. Il Camping CIG pure, a parte la peculiarità di essere in piedi, di resistere letteralmente da cinque anni, cinque anni in cassa integrazione, è una roba molto dura, insomma tu ne sai anche qualcosa. Cinque anni che resistono, cinque anni che hanno sbugiardato completamente i ebra, che stanno sfruttati sul collo a sindaci, amministratori, sono stati ricevuti da Montecitorio e la cosa secondo noi ancora maggiore, il progetto politico vero, il polsi da nuova autorità è aver presentato un piano, secondo noi di rinascita della città, il piano per i lavori di pubblica necessità. Loro hanno messo il nero su bianco cosa serve, dove si prendono i soldi, di chi impiegare, un piano di quattro pari, quando si dice ci vuole i tecnici, ci vuole i tomi da fare, no, un gruppo di operai sostenuto anche da tecnici ha messo in fila il proprio piano di lotta e non ce n'è molte di cose così, io insomma mi occupo di lavoro per operaio in Toscana ma anche a giro per il paese, io insomma bazzico per la FCA ultimamente, quindi per i stabilimenti Torino, Comigliano, è una cosa del genere, un'organizzazione, uno di lunga durata e due così strutturata, organizzata e autorevole, io sinceramente non ne ho viste tante e quindi il piombino come esempio di lotta noi lo portiamo spesso e volentieri in giro perché altro che zombie insomma, dobbiamo anche un po' mettere le cose ai piedi per terra, a volte sono un po' che diciamo noi la mente della sinistra borghese, non si muove nulla, non c'è lotta, non c'è battaglia. Noi femminili siamo un po' pessimisti, ma anche il risultato delle elezioni dei giorni scorsi, la vittoria di Ferrari che ribadiamo che lui è il... Ha fatto scalpore anche poi il tuo video... Sì, l'abbiamo fatto apposta, l'abbiamo fatto apposta tra l'altro, per fare scalpore è anche creare dibattito, creare dibattito su quella che noi chiamiamo la breccia, anche le elezioni del governo 5 Stelle e Lega come le elezioni di Ferrari non è frutto della bravura loro come politicanti o come persone che indicano delle cose o promettono, è il frutto anche quello della resistenza del CSP, dei tantissimi che stavano al mercato oggi, 9 persone su 10, anche alcuni, non so se ci riederanno, però anche di rifondazione comunista, gente che si definiva di sinistra, ha detto che era quello che ci voleva per rompere, chiaro, come parlavamo 10 minuti fa e come parleremo ancora nelle nostre prossime, ci vuole altro per conto nostro, per noi non è Ferrari la soluzione, si è accennato al socialismo e al comunismo, ci sono altri passaggi, amministrazione d'emergenza e un governo d'emergenza, che sono delle tappe ancora superiori, per andare in quella direzione questa era la migliore, altri 5 anni di PD come noi in teoria ci serviremo altri 5 anni di Nardella a Firenze, non sono un terreno diciamo favorevole, ti faccio un esempio banale, il CSP che ha dato dei candidati alle liste e belatamente ha appoggiato anche questa vittoria, una delle prime cose che può fare è chiedere una sede, chiedere un sostegno economico e finanziario dalla nuova amministrazione, se riconosce che la battaglia per la sanità, la salute contro la discaria è legittima, come è stato promesso, bene, ci vuole delle dimostrazioni tangibili, questa può essere una, ma è la prima che... Che poi penso che il Comitato della Salute è stato anche un po' in là, diciamo per questo cambiamento, non so, diciamo se non ci fosse stato il Comitato della Salute, cosa sarebbe successo poi dopo chiedo a te, Sipia, cosa ne pensi del Comitato della Salute, cosa ha portato a Piombino, qual è stato il ruolo del Comitato? Io volevo riprendere un attimo il discorso che faceva Fabio rispetto alle nuove autorità pubbliche perché comunque è un aspetto importante che caratterizza anche la nostra linea, nel senso che il lavoro che noi facciamo è quello di promuovere il protagonismo popolare, quindi sostenere esperienze come camping, come il Comitato di Salute pubblica che rappresenta un'esperienza importantissima a Piombino perché di partecipazione, insomma hanno anche provato giustamente ad organizzare il referendum che poi è stato cassato molto democraticamente dagli antifascisti del PD e quindi noi appunto sosteniamo questo tipo di lavoro, però cerchiamo di metterci nell'ottica di far fare un passo in più alle organizzazioni operarie popolari, cioè quello di andare, partire dalla rivendicazione, ma andare oltre al rivendicare alle istituzioni di turno quello che devono o non devono fare, il punto è proprio quello di porsi da nuova autorità pubblica ossia elaborare le misure che servono, come sta facendo camping, elaborare anche delle misure di emergenza e imporle e qui mi allaccio anche a quello che è un po' il ragionamento sulle nostre dibattute e indicazioni di voto Fabio ha un po' accennato, noi non abbiamo dato fiducia a Ferrari noi innanzitutto bisogna un attimino anche analizzare la coalizione del Ferrari sarebbe sbagliato stigmatizzarla come una semplice lista della Lega, perché questo non è noi in altre circostanze, per esempio Pontedera o Livorno, dove si fronteggiavano partiti di centrodestra e di centrosinistra quindi PD e Berlusconiani, Lega eccetera, da una parte e dall'altra abbiamo dato l'indicazione di astenersi poi di fatto il civismo lì è maggiore rispetto ai voti che ha preso esatto, rispetto a Piombino la lista di Ferrari in un qualche modo ha unito tutte le anime, diciamo così, anti-PD quindi tutte quelle anime che volevano in un qualche modo sconfessare e mandare a casa i fautori delle politiche di lacrime e sangue che hanno ridotto Piombino per 70 anni nella situazione che è quindi era una coalizione composita, tant'è che noi già al primo turno avevamo dato indicazioni di voto per il sindaco a Pasquinali del Movimento 5 Stelle e poi alla lista Lavoro Ambiente proprio perché appunto Ferrari, la coalizione di Ferrari ha assunto ovviamente a parole, diciamo che adesso lo deve tradurre nei fatti, un programma di rottura rispetto al PD ed è sulla base di questo che i piombinesi l'hanno votato, principalmente di questo quindi l'indicazione e la vittoria di un'amministrazione con queste caratteristiche a nostro avviso per quello che è il nostro progetto politico, il nostro lavoro che è quello appunto di fomentare l'organizzazione delle masse popolari rende sicuramente più facile, diciamo crea più appigli ad alimentare quello che è la partecipazione delle organizzazioni operai e popolari anche perché se adesso questa amministrazione non procede nella direzione ossia nel mantenere le promesse che ha fatto, è chiaro che salterà ancora prima di quanto ci ha messo il Partito Democratico a saltare però creerà allo stesso tempo, dimostrerà nella pratica quanti hanno dato il voto a Ferrari che ci vuole qualcosa di più delle semplici promesse ossia che ci vuole la partecipazione diretta dei cittadini e questo in una qualche misura apre le porte a quella che noi chiamiamo Fabio lo diceva prima, amministrazioni locali di emergenza cioè amministrazioni che si basano, la loro forza si basa, la loro agibilità politica e amministrativa su determinati rapporti di forza che sono quelli dettati dalla mobilitazione dall'organizzazione dei lavoratori, della classe operaia, dei giovani di realtà come il Comitato di Salute Pubblica, Camping CIG e tantissime altre associazioni che sicuramente sono presenti su questo territorio che magari noi nemmeno conosciamo ad oggi non siamo neanche di Pionbino, però butto lì il stato di emergenza, l'organizzazione giovanile l'associazione delle mamme per il punto nascita, l'elba il Comitato di Punto Nascita all'elba eh il Comitato di Punto Nascita c'era anche un Comitato di Punto Nascita eh ma c'è anche lui a Pionbino perché rischia la chiesura al punto nascita quindi già ci sono dei parti comunque che vengono fatti da Pionbino a Cecina vengono mandate queste mamme a Cecina addirittura c'è un mio amico che ora la moglie deve partorire hanno proprio paura e dovranno andare a Cecina quindi anche questa è una realtà purtroppo di Pionbino e non solo le prossime mosse del Carco quali saranno qui a Pionbino quindi? eh Fabio? beh senti come ti dicevo prima noi eh già da un po' di mesi abbiamo aumentato la nostra presenza no? ehm abbiamo tra virgolette investito su una città una realtà che riteniamo molto importante eh del CSP abbiamo parlato finora io vorrei spendere appunto due parole in più eh per il secondo polo su dei ruggi per italiano e per tutti i lavoratori che ci stanno per una storia lunga eh oltre cento anni io lo considero un po' un gigante che sonnecchia no? eh vengo spesso sento dire che gli operai non fanno non brigano dormono però mi ricordo il 27 giugno ormai di due anni fa eh quando scadevano gli ammortizzatori sociali insomma hanno bloccato di tutto di più e hanno costretto l'ex ministro Poletti eh a firmare al volo la concezione noi partiamo anche dal ruolo sociale eh che hanno eh ruolo sociale eh che è principale secondo noi per la costruzione anche della rivoluzione socialista è la classe operaia la classe eh principale e non è neanche un caso e abbiamo indicato te eh per la come voto disgiunto no? al primo turno sei un insomma di là che ti conosciamo sei comunque anche un operaio della Lucchini e quindi hai un ruolo ehm molto ben preciso e quindi come dicevo abbiamo eh elevato insomma i nostri interventi in media facciamo due eh discese le chiamamo così perché io vengo da Firenze e insomma il posto più vicino in cui siamo presenti ehm è Cecina dove abbiamo eh la sezione per fare un'uscita pubblica in genere oggi per dire siamo andati al mercato e poi davanti alla fabbrica in passato siamo andati davanti alla scuola ma facciamo anche il porta a porta con il giornale e poi un'iniziativa pubblica l'ultima a cui hai partecipato anche tu è stata quella sul eh reddito di eh cittadinanza una delle misure del governo tra l'altro eh per quanto contraddittorio e preme piene di limiti e paletti estremamente ehm importante e a Piombino eh come ci hanno detto stamani ci sono state 8 mila richieste direi di cittadinanza dimostra che c'è insomma una una situazione d'emergenza per il proprio 8 mila richieste di reddito di cittadinanza su 30.000 e qualcosa abitanti eh e quindi insomma lavoriamo per legare eh queste temati alla lotta alla lotta del lavoratore del camping alla lotta degli altri che ancora non ci sono ma sono comunque in cassa integrazione per la conquista eh del lavoro utile e dignitoso la lotta per rivedere l'accordo di programma come ha detto il neo sindaco quindi rivedere ehm tutto ciò su cui si sta tranquillamente continuando ad agire ginda come prima di lui ha fatto Rebra beh insomma un film di altri padroni di eh multinazionali che sono venuti qui hanno fatto il bello e cattivo tempo hanno saccheggiato e poi al momento giusto eh si sono sganciati e in prospettiva insomma eh vogliamo anche rafforzarla questa eh presenza vogliamo insomma aprire un presidio una sezione strutturale comunque un gruppo eh di simpatizzanti collaboratori che ci danno in una mano nella costruzione del partito e nello sviluppo della lotta di classe ripeto l'indicazione di voto che abbiamo dato eh va ehm esattamente in quella direzione non è che noi siamo non siamo elettoralisti noi diciamo vota per quello arrivi il sindaco no e poi siamo apposta abbiamo dato la sua bella delega no assolutamente no una cosa che vi contraddistingue è che fate spesso i fatti rispetto magari ad altri voi fate i fatti e spesso avete preso anche delle denunce delle denunce qui da fuori camera c'è anche lì non so che anche lui ha ha combattuto una sua lotta che l'ha visto presente nei tribunali eh quante quante diverse situazioni vivete voi con il vostro partito eh con quelli di sostegno si allora ti dico le tre principali le tre principali sono processo per la compagna Rosalba Romano si Rosalba Romano è nostra compagna mh imputata per diffamazione in quanto intestataria di un sito che si chiamava vigilanza democratica perché la magistratura l'ha chiusa immediatamente che si occupava di denunciare gli abusi in di vita no quindi postato un articolo su un pestaggio di un ultras Paolo Scaroni una roba successa 10 anni fa ridotto in fin di vita tra l'altro questo ragazzo esatto tre mesi in coma denunciata per diffamazione e condannata per non avere vigilato sull'accesso del sito perché lei era sin intestataria ma l'accesso al sito aveva tutta la redazione 30 persone quindi non è mai stato appurato chi ha postato l'artico diciamo in criminale e soprattutto che lei l'abbia scritto sì quindi infatti la ha firmato la redazione e quindi denunciata per un crimine e condannata per un altro è una cosa che anche nella nostra giurisprudenza insomma non sta molto in piedi e in primo grado ha avuto una contanna a 10 mila Euro un'altra è il processo per la sede della sezione di massa in via Stradella in cui in primo grado i compagni sono stati 4 compagni condannati a 40 mila Euro di multa ora c'è molto questa cosa non danno molto meno le denunce penali che in genere si assorbano con la condizionale ma massacrano dal punto di vista economico e tra l'altro anche lì sono due operai un infermiere e un disoccupato quindi si capisce bene non mi va a colpire e avevano occupato uno stabile del comune abbandonato tipo da 15 anni avevano tra virgolette recuperato alla collettività uno spazio lasciato a marcire anzi è anche una buona cosa alla fine se si riempiono tutti gli spazi abbandonati e restituisce un bene comune nei fatti in questo caso scusa se ti interrompo però la nota di colore se la vogliamo chiamare così è che all'epoca c'era un'amministrazione centrodestra che mise in campo tutta un'operazione contro appunto questi compagni che avevano occupato la sede centrodestra no di centrosinistra ha detto centrodestra centrosinistra che praticamente ha denunciato i compagni per danno d'immagine quindi 40 mila euro sono legati insomma al danno d'immagine che l'occupazione appunto di questi compagni che poi in realtà restituito uno stabile che era abbandonato al al degrado avrebbe provocato insomma danno della città di massa e quindi ad oggi insomma c'è in ballo anche questa questa udienza stiamo affrontando insomma i vari processi e stiamo chiaramente anche facendo un'attività di raccolta economica insomma per sostenere le varie spese processuali fate a sostenere comunque sia il fatto che vi spostate che siete a difendere gli operai a piombino che siete in altre realtà come fate diciamo lo fate come secondo cioè avete il vostro lavoro e questo lo fate per passione come come vi sostenete insomma aggiungo un pezzo in più ecco che anche anche quell'argomento di dibattito ultimamente con altre forze politiche noi abbiamo dei compagni che si dedicano a tempo pieno al lavoro politico noi abbiamo dei compagni che abbiamo sganciato dalla produzione per fare lavoro noi li chiamiamo rivoluzioni di professione che dedicano tutto il loro tempo e anche tutta la loro vita non è un semplice funzionario di partito che si dedica ma abbiamo dei compagni e abbiamo appunto deciso insieme ovviamente di impiegare in ciò e noi le risorse le troviamo nel mare inesauribile delle masse popolari noi facciamo con la vendita del giornale richiedendo sottoscrizioni anche principalmente ai nostri membri tanti di noi compagni insomma hanno messo nelle casse del partito affidato le proprie risorse risparmi liquidazioni tfr e quant'altro al partito perché secondo noi il partito è ciò che ci garantisce il futuro insomma vedendo anche lo sviluppo ora noi abbiamo fatto il congresso a nazionale a gennaio da quello precedente in quattro anni noi adesso per dire in toscana abbiamo nove sezioni e altre due in costruzione abbiamo raddoppiati medbi ma non è solo una questione quantitativa no diego è una questione dietro a cui ci stanno corsi di formazione pratica sul campo e non sono le semplici tessere che tu vieni al mercato c'è tutto un lavoro di costruzione vera e propria di trasformazione di questi diciamo compagni quindi il lavoro generalmente che facciamo è appunto di facciamo anche le lotterie facciamo anche iniziative commerciali 22-23 giugno facciamo la festa a Firenze in cui accanto a dibattiti presentazioni di libri e quant'altro facciamo anche la grigliata la muse perché ci piace anche a noi divertirci i comunisti non sono solo dei musoli pallosi scusatemi il termine e chiaramente usiamo anche questo caso abbiamo una casa editrice quindi abbiamo anche tutta una serie di testi che vendiamo però ecco ci tengo a dire l'aspetto commerciale è quello insomma tra virgolette inferiore noi puntiamo principalmente sull'apporto alla causa della rivoluzione noi diamo un'opportunità noi diciamo investite sul vostro futuro se investite non investite sulla resistenza al fascismo noi nel 2009 abbiamo promosso le ronde contro le ronde SS a massa del decreto Maroni e ancora paghiamo abbiamo pagato carcere condizionale e multe anche lì spropositate fermo restante noi combattiamo anche contro le multe e le denunci per noi non è una cosa del destino arriviamo lì e è una cosa che ci tocca per forza noi diciamo difendere la costituzione antifascista difendere il diritto al lavoro deve essere una roba che non deve essere sottoposta a repressione Rosalba e la redazione di vicinanza democratica hanno ottemperato l'articolo 21 ovvero il diritto di informazione alle masse popolari quindi per noi abbiamo fatto ricorso ovviamente a quella sanzione e chiediamo sostegno anche ai politici non abbiamo problemi ad andare da deputati, senatori, delle varie forze progressiste visto che anche loro si dicono al fiere della democrazia e quant'altro e noi gli diamo un contributo li mettiamo alla prova visto che spesso siamo anche in prima linea a differenza di loro visto che stai dietro magari coprici anche un po' sì diciamo che il discorso della raccolta economica che faceva Fabio comunque noi vogliamo mettere a contributo tutti al nostro progetto e ognuno è messo a contributo anche sulla base di quello che è disponibile a dare una parte sono disponibili a entrare nel partito a fare un certo tipo di militanza un'altra parte a collaborare, a simpatizzare anche il finanziamento insomma il sostegno economico è uno dei modi per contribuire a quello che è un progetto che non riguarda soltanto il partito dei Carc ma riguarda tutte quante le masse popolari notizia degli ultimi giorni riguarda Carrai che è nell'amministrazione appunto di Aferpiura GSV che è a Carrai lo conoscete in altri ambiti perché per esempio noi molti di noi di Piombino non lo conosciamo per noi è una notizia normale una notizia scontata avete avuto modo di conoscerlo questo Carrai in altre vicende io sono di Firenze, Silvia insomma pure ci lavora conosciamo abbastanza Carrai lui è uno dei giglio magico famoso di Matteo Renzi non ho ben chiaro se si è diventato o se sta diventando consul onorario di Israele quindi di gruppi imperialisti sionisti e presidente di Toscana Aeroporti che per mesi e mesi ha pagato pagine e pagine della nazione per pubblicizzare la bontà la necessità di raddoppiare l'aeroporto di Peretola che è stato bocciato dal Tar perché già nella precedente versione hanno tipo 123 prescrizioni di legge che hanno sforato in materia ambientale di riprì di sicurezza quindi di salute pubblica già quello era un progetto fuori dal mondo e lui è stato uno dei più accaniti promotori di quello successivo che io sappia lui siede nel consiglio di amministrazione anche di alcune banche alcune società di intelligence di materiale elettronico dedicato insomma alla sicurezza informatica la sicurezza informatica quindi insomma e lui tra l'altro intervenne nel closure come si dice nella chiusura del passaggio del re Brabba Ginda negli ultimi mesi guarda caso poco prima delle elezioni del nuovo governo e ha contribuito quindi ci sembra una persona molto ben introdotta con un riferimento politico ben preciso e quindi invito Piombinesi a stare molto accorti molto vicini a questo personaggio insomma mi sembra evidente che si ha a che fare con un elemento insomma della classe dominante di quelli che noi consideriamo i nostri nemici di classe insomma a Firenze c'è stata e c'è ancora una battaglia enorme su questa questione dell'aeroporto che già ora produce un inquinamento acustico ma anche ambientale insomma in media decodono tre aerei in mezzo alla città planano sull'autostrada e insomma sicuramente secondo noi da soli chi voleva chi può chi è il capo in testa di tutti i vari gruppi accordati vogliono fare l'ennesima grande opera inutile inutile e dannosa per una città che è già soffocata dal traffico dall'inquinamento dall'inquinità generale esistono molte associazioni ora a Piombino e comunque si faceva un conto sono tante le persone che ne fanno parte perché poi anche se sono per lo più gruppi social tanti però si conta all'incirca 8.000-9.000 persone che fanno parte di questi gruppi social che comunque si sono posti anche alle scelte del Partito Democratico in questi anni invece poi ci sono dei comitati dell'associazione come per esempio il Campi CIG e il CSP che fanno proprio resistenza vera insomma hanno fatto assemblee riunioni si sono organizzati bene e quindi sono qualcosa di più concreto di più tangibile secondo voi è possibile in qualche modo unire queste forze unire queste associazioni e diciamo indirizzarle in un'unica direzione non è contento ovvero quello di rendere più o meno una città migliore e il CARC può mediare in questo un partito o altri partiti anche questo nuovo governo per esempio guarda noi l'obiettivo che ci poniamo è proprio questo cioè quello di da una parte organizzare chi oggi ancora non è organizzato ma è alla ricerca di una risposta dall'altra è unire quello che già esiste come dicevo prima ci sono tante associazioni organizzazioni che noi oggi non conosciamo con cui non siamo in contatto e quando noi promuoviamo delle iniziative pubbliche ma anche semplicemente l'andare davanti alla fabbrica o davanti alla scuola o alla copp che è un'attività che non facciamo soltanto a Piombino ma la facciamo in tutti i territori dove siamo presenti l'appello che portiamo noi è quello di coordinarsi quindi promuovere il coordinamento tra quelle che sono le differenti realtà territoriali ciascuna magari che si occupa di una cosa specifica il CSP si occupa della questione salute ambiente gli studenti si occupano della questione della scuola i lavoratori della questione della fabbrica il quartiere eccetera il punto però è dare un obiettivo comune a queste varie forme attraverso cui si esprime quella famosa resistenza cioè il tentativo di trovare una strada ognuno per difendere quelli che sono i propri interessi l'obiettivo però si riassume sostanzialmente nel costituire diciamo così una nuova governabilità noi la definiamo cioè una nuova governabilità a livello locale ma a livello nazionale soprattutto cioè un governo che si dia i mezzi per attuare delle misure di rottura delle misure di emergenza noi siamo in una fase di emergenza cioè una fase di crisi economica generale più un vino esemplare ma sono esemplare tantissime altre città della Toscana io vengo da Massa dove appunto l'anno scorso ha vinto la Lega anche in quel caso abbiamo 16 mila disoccupati c'è insomma una crisi industriale non indifferente quindi è comune diciamo all'intero paese e quindi siamo in una situazione in cui bisogna prendere delle misure di emergenza ok affinché un governo abbia la forza per prendere delle misure di rottura e lo stiamo sperimentando anche col governo 5 Stelle Lega i limiti che ha in qualche modo deve essere sorretto dalla mobilitazione delle masse popolari cioè la forza di un governo veramente deciso a rompere con l'Unione Europea a nazionalizzare quello che bisogna nazionalizzare a creare posti di lavoro a difendere i diritti degli studenti l'ambiente la salute eccetera deve basare la propria agibilità su una forza che è quella delle masse popolari organizzate differentemente è chiaro che rimane schiacciato lo vediamo soprattutto con l'esempio del Movimento 5 Stelle a livello nazionale i vari balletti le promesse fatte poi non mantenute sulla questione del Tav del TAP eccetera il problema del 5 Stelle è che non fa valere quella che è la sua forza ossia il sostegno del suo elettorato farlo valere però nella pratica quindi chiamando alla piazza promuovendo l'organizzazione dei meetup a livello territoriale eccetera non facendo così siamo arrivati che il 5 Stelle non hanno ha perso 6 milioni di voti questa è la sintesi diciamo del governo del blocco popolare in qualche modo quello che è illustrato finora quindi il nostro lavoro è proprio quello che dici te promuovere a più livelli il coordinamento tra le varie organizzazioni associazioni eccetera volevo aggiungere una cosa a tutto ciò che ha detto Silvia e che è quello su cui mi ci sgolo con le decine anche di comitati ambientalisti e popolari con cui abbiamo a che fare perché ognuno va per il suo tema specifico non generale però spesso si vince io penso alle mamme non ceneritori che hanno fatto saltare quello di Firenze però poi cosa si fa si torna a casa e poi dopo rimane il problema dell'aeroporto rimane il problema della sanità il problema è della società il problema è politico tu puoi risolvere anche il tuo problema contingente e specifico però se non cambiamo l'assetto della società in una maniera o non altra cioè la tappina falla ma si riapre immediatamente lo sforzo la lotta la battaglia una delle cose difficili è far inquadrare a tutti che i propri obiettivi specifici possono durare e durare e essere mantenuti perché poi il nemico da domani ti riattacca subito cioè il TAR blocca l'aeroporto e il giorno dopo c'è già il ricorso il Consiglio di Stato e loro hanno soldi mezzi agganci eccetera quindi fare conveggere coordinare organizzare per imporre il proprio governo imporre il proprio governo e non è una cosa appunto affatto segno perché storicamente insomma il massimo povero si è educato un po' anche a pensa alla tua cosa e poi oppure non vedere i legami con tutte le altre oggi nessuno si salva da solo non è possibile questa cosa o cambi tutta la società oppure le vittorie quelle poche che ci sono rimangono comunque parziali temporanee esatto sono precarie cioè ogni vittoria in questo sistema nel sistema capitalista in una fase di crisi soprattutto come quella di oggi è precaria per concludere vi chiedo un ultimo appello o se avete qualche messaggio da dire qualcosa non è stato ancora detto per concludere vi do questa possibilità se c'è qualcosa parto io poi vai te Fabio ma quasi il confronto fra sindaci l'ultimo appello l'appello finale no vabbè penso che ci sarà convergenza sui due appelli almeno spero come diceva prima Fabio noi appunto stiamo portando avanti un lavoro sul Piombino da diverso tempo si è creata una situazione a nostro avviso molto interessante rispetto insomma anche all'amministrazione che si è venuta a costituire noi chiamiamo insomma tutti quanti a mobilitarsi a organizzarsi a spingere e costringere questa amministrazione a mantenere le promesse che ha fatto non ci tiriamo indietro in primis insomma dal portare avanti questo lavoro ed è per questo motivo che noi abbiamo intenzione di radicarci in questa città di costruire il partito a Piombino quindi di aprire una sede e in questo senso insomma noi facciamo l'appello a tutti quanti tutti i lavoratori giovani con la falce martello nel cuore ma anche chi non si riconosce ad oggi diciamo come comunista perché noi mettiamo a contributo vogliamo mettere a contributo tutti quanti ognuno per quello che è disponibile a dare a partecipare a questo progetto quindi che è un progetto di protagonismo popolare e pensiamo che più che altro la pratica ci dimostra ogni giorno che è quello che può fare veramente la differenza ai fini degli interessi delle masse popolari non è il voto che decide l'esito come dire delle masse popolari della vita delle masse popolari di Piombino ma è il loro protagonismo la loro partecipazione noi su questo è il lavoro che promuoviamo e che vogliamo fare in pianta stabile insomma in questa città quindi l'appello che faccio è a partecipare alle nostre iniziative e a darci una mano insomma a costruire il partito qua a Piombino Fabio? visto che sì mi ha bruciato tre quarti del mio appello c'è un'ità di indirizzo sì è giusto il mio appello ai piombinesi è proseguire a un livello superiore a quello che hanno fatto negli ultimi anni cioè aderire sostenere in qualunque forma e modo principalmente al CSP e al Camping Cig nelle loro due battaglie per tutti i motivi che ho detto prima insomma sono organizzazioni estremamente insomma importanti per la lotta di classe di tutto il nostro paese sono ambiti in cui si può esprimere il protagonismo appunto e aiutare a superare questa contraddizione fra lavoro e ambiente che è lacerante e su cui la classe dominante ci gioca alla grande pensiamo all'ilva di Taranto in tutti i posti in cui il salario viene imbarattato con la salute in cui le masse popolari sono sottoposte a questo ricatto quindi i piombinesi possono sostenere e spingere anche queste due organizzazioni a lavorare insieme a riconversione della fabbrica spostamento forno elettrico ne sanno i tecnici molto più di me e la bonifica del SIN queste sono le cose da imporre alla nuova amministrazione comunale al governo 5 Stelle Lega io insomma ricordo il buon Salvini mando venuto qui davanti a fare la sua campagna elettorale l'anno scorso se vincerò e ha vinto nazionalizzerò l'azienda intanto ci si accontenterebbe che facesse partire le bonifiche del SIN che sono lì che aspettano dal 2002 2003 se vuole dare un segnale se vuole essere un minimo concreto invece che stare a fare la fuffa dietro agli immigrati che non arrivano e alla sicurezza mentre ci sarebbe bisogno di quella sul lavoro principalmente muoiono una media di 4 operai al giorno un passaggio deve essere sicuramente quello secondo me il destino di Piombino si decide su il futuro della fabbrica e dei veleni da mettere in sicurezza e non lo possono fare altri Piombino noi siamo noi non dico che siamo un di più siamo un elemento che può sicuramente sostenere orientare e dirigere e dare il proprio contributo politico e ideologico però sono le masse popolari che fanno la storia senza di loro non si va da nessuna parte e quei due ambiti le due organizzazioni poi tu ne hai citate anche molte comunque uscire di casa scendere in piazza lavorare prendere in mano il proprio destino nessuno ci risolverà i problemi e ce ne sono tanti a Piombino io vi ringrazio vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro inserimento qui a Piombino e tanto ci vediamo e ci riaggiorniamo grazie a tutti